Bentornati cari amici montanari, siamo a fare una partita da Colle Marcione, nel Pollino, per andare sulla Manfriana, Monte Manfriana, alta 1.900, siamo partiti da 1.200, quindi 700 metri di risvello, siamo 4, non ho molta voglia di fare dei video, vediamo se esce qualcosa lo stesso. Buona strada. Ah, ieri ho rotto il telefono, con un credino a casa, e quindi sto usando quello di Dario, un iPhone 7 che però non ci dispiace. E anche oggi si butta nel bosco, in realtà la traccia era giusta, si muoveva sul 1941, ma l'abbiamo un'ottima persa, prima o più giù, distraendo, ci siamo scesi più in basso del previsto. Abbiamo ripresa e si sale adesso, molto incazzati verso su. Si vede non bene, benissimo, lo Ionio, nella piana di Siberia, lo Ionio, e abbiamo intravisto, anche di là il tirreno, ma non lo vedrete mai dal telefono, c'è proprio una striscietta blu scuro. Come ce li devono fare? Una statua. Una statua. E queste. Il sentiero qui non è proprio... Sto per dire che non esiste? Esiste, vabbè, basta seguire la cresta, affinché non puoi più salire. Siamo arrivati in cima, 1981. Per poco non siamo a 2000, perché le 2000 sono le solide 5, il pollino. Sono il dolce d'orme, il pollino che è dietro, il preta qua e qui dietro, la serra delle ciavole, e la serra di crispo. Vabbè. Abbiamo mangiato, ci siamo congelati completamente, e adesso ci andiamo subito, perché non si riesce più a stare, e c'è freddo, e fa freddo, e però muovendoci penso ci riattiveremo, e beh, c'è il telefono di Dario, che mi ha presunto, inizia ad essere scarico, quindi sarà un ennesimo video corto. Finché è dura, faccio qualche altro video. Questa mattina, non abbiamo visto questo segnale, siamo andati dritti di là. Potevamo anche capirlo perché la strada scendeva, andavamo a salire in cima una montagna, quindi era meglio andare lungo una strada in piano che un indiscese, ma non l'abbiamo vista, e quindi vi ho perso mezz'oretta, ma direi proprio sticata. Tornati a Colle Marcioni, ringrazio l'iPhone 7 di Dario, se la qualità è più bassa, arrangiatevi, tanto non è che la qualità in genere sia, è anche sporca la fotografia, sia il massimo, buona strada. Grazie per la visione, ringrazio l'iPhone 7 di Dario,